Allora, buonasera a tutti, un grazie di aver partecipato alla 60esima mostra organizzata nella seduzione di terra. Un grazie va al nostro Presidente onorario Mastatuno Guido e anche il proprietario del Cappanone che ha messo a disposizione per realizzare la manifestazione. Bravo Guido, un applauso. Un altro ringraziamento vanno i soci che si sono impegnati nel preparare e realizzare questa mostra. Grazie a tutti i soci, non faccio nomi così non dimentico nessuno. Adesso passando su, la fegnazione per i coi di Matteo Mastatuno. Allora, con i coi di Matteo Mastatuno, abbiamo un primo applauso, uno è Arturis da Tremirso che è il grande piano di un dici anni. Allora, passiamoci in premiare tutti i due con una porta. Ecco, sono molto giovani, non vedete. Grazie a tutti i due con una porta. 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 Pierino Gianghi Trofeo Aldo Boscatti Valeratore Sottotitoli Numero di seno d'onore della cattolica Sottotitoli di Sottotitoli Conciuto tutti Roby Giuseppe Roby Giuseppe Con frutti 360 giri. Mesta, vai. Il passo di questo non ci potete. Allora, questo è il peggio, è certo, ma è un inizio bravo. E qui, ritelo bene. L'associazione più numerosa che ha partecipato a questa nuova regione di Sorghiazza va a trasportare un premio. Mi c'è stato evitato, hai giusti? Sorghiazza. Ho un'attività, un'attività, un'attività. E' un'attività di Sorghiazza. e Giorgio Campese che si è giusto per noi 15 caratteristiche di coloro di Pocollo di Tattoria Rozzo e di Pocollo di Cattoria Rozzo e di Pocollo di Pocollo di Pocollo di Pocollo di Pocollo di Pocollo Grazie a tutti. 10 canarini per amici, di colore con pardone rosso, 9800 punti, Pierino Gianni, Pierino Gianni. 10 canarini per amici, di colore con pardone rosso, 106 punti, Pierino Gianni, Pierino Gianni, Pierino Gianni. 660 per i punti, rompono le mani di salto. 560 per i punti, rompono le mani di salto. A me in città in pretù, in città in pretù, finché mi lasciano vincogli altri. A me in città in pretù, con 540 punti, Berto Maurizio, con 720 punti, Cescetti Alessandro. A me in città in pretù, con 720 punti, Berto Maurizio, con 720 punti, Berto Maurizio, con 720 punti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti